Nel frattempo viene introdotto ai giochi olimpici quell'interessante gioco col cestino di pesca e posto a 3 metri e 0,5 metri, 10 metri americani. Tutti raccontano la storia della finale, ma secondo me non si dice tutto di quel torneo. Nessun libro riporta il fatto che il basket non doveva andarci alle Olimpiadi. E dice, ma allora come lo sai? Andate a Berlino, nella zona olimpica, perché tutti gli impianti principali sono vicini al grande stadio olimpico, e c'è un palo con affissa una sorta di lapide che dice, qui si giocò il primo torneo olimpico di basket, che non si doveva giocare. E no, se no avremmo fatto un campo per il basket, siamo tedeschi, abbiate pazienza. E infatti si doveva giocare una sorta di hockey, quindi si giocava all'aperto su una superficie non linea o comunque non in grado di assorbire l'acqua. Sfiga, il giorno della finale viene giù il diluvio universale. Quindi il gioco che il professor Nesmith aveva inventato alla fine dell'Ottocento con Nesmith, 80enne presente lì, è una sorta di pallamano con canestri. Risultato finale, un non straordinario 19-8 con cui gli americani battono i canadesi. Poco eccitante. Miglior marcatore, 7 punti. Diciamo che gli americani hanno fatto meglio e anche il gioco della panna è a canestro in seguito. Miglior marcatore, 7 punti.